Tutti rinviati a giudizio gli indagati dell'operazione Demetria, operazione che aveva dimostrato come la rete dei migranti sfruttati illegalmente si estendesse da Crosia a Pisticci in provincia di Matera, passando per la Sibariti dell'Alto Ionio. A gestirla era un'organizzazione capillare fatta di tante cellule coordinate con moderni mezzi di messaggistica istantanea. I finanzieri del gruppo di Siberi e della tenenza di Monte Giordano avevano censito gruppi invisibili in tutti i comuni dell'area Cassano, Villapiana, Corigliano, Rossano e Crosia. Gli immigrati risiedevano nei centri storici e nelle zone abbandonate, in una casa, nei casi migliori vivevano in 7 o 8, ma si arrivava a coabitare anche in 20 sotto lo stesso tetto, in condizioni igieniche a dir poco disumane. Erano caporali e sub caporali a organizzare ed occuparsi del trasporto dei lavoratori. Li reclutavano nei CAS, i centri di accoglienza per richiedenti asilo dislocati sul territorio, o li commissionavano facendo arrivare da altre zone della regione, dove soggiornavano stagionalmente per i periodi delle varie raccolte di frutta. Il sistema era collaudato e ben oleato. Caporali e i loro vici davano appuntamento agli sfruttati nei luoghi classici di ritrovo, a Rossano Paese, Corigliano, nelle aree della stazione, nel pazzale delle poste di Cassano, nei pressi della casa di Corigliano. Li caricavano come bestie nei furgoncini e li portavano nei campi, costringendole a turni massacranti in cambio di pochi euro al giorno. Grazie. 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 Grazie.